Ciao a tutti, bentornati su Lissa SMR Anche oggi, come in tutti i giorni, nuovo video Oggi vorrei tornare a leggere insieme a voi il fantasma dell'opera Eravamo rimasti a pagina 173, capitolo 18 in seguito della curiosa attitudine di una spilla da palia e in particolar modo quando Richard e Moncharmaine testano insieme qual è la motivazione per cui i 20.000 franchi nella tasca di Moncharmaine sono spariti le precedenti volte e nulla, se ancora non siete iscritti al canale io vi invito a farlo se vi piace l'inaudible, l'intellegible, il tracing e appunto la lettura whispering sia sui libri che sulle riviste e vi invito anche a lasciare un like e un commento se vi va e se volete supportare ulteriormente il canale ci sono i link in descrizione per le donazioni Paypal e per la Amazon Wishlist e volevo vi ringrazio già per aver cliccato su questo video in qualsiasi caso e già questo è comunque un grande supporto e direi di iniziare ebbene, sento sempre la spilla è chiaro che come molto opportunamente dicevi nessuno ora poterò pace senza che me ne accorga ma Moncharmaine, di cui manier non si è preoccupato di tornare alla tasca o all'offa sento sempre la spilla ma non sento più le pancorote no, non scherzare Moncharmaine non è questo il momento prova tu stesso con un successo da Richard di Sidi Sma la ciocca i due direttori si contendono alla tasca la tasca è vuota ma la cosa più strana è che la spilla è rimasta accacciata al suo posto Richard e Moncharmaine impallidiscono si trattava di un solo di legge e non c'erano più dubbi il fantasma, formano Moncharmaine ma Richard si è avvenuto subito sul suo collega soltanto tu hai potuto toccare la mia tasca resti i tuoi scimi i miei ventimila franchi resti i tuoi scimi i miei ventimila franchi sulla mia anima sospira Moncharmaine che è sempre sul punto di capire in delico dicerò che non li ho e poiché bussavano nuovamente alla porta andò da Peller camminando con passo quasi automatico sembrò riconoscere a stento l'amministratore scambiò con l'utile frasi qualunque non capendo l'uno di ciò che l'altro gli diceva e con gesto inconsapevole depose nella mano di quel fedele servitore completamente l'impedito la spillata baglia colmai non poteva servire più a niente capitolo 19 il commissario di polizia le prime parole del commissario di polizia venneranno nell'ufficio dei lettori furono per chiedere notizie della cantante Christine Dye qui era seguita come già detto dalla volla compatta Christine Dye no risposta Richard perché quando Moncharmaine non lo pilla forse dire una parola il suo stato danno era molto più preoccupante di quello di Richard ciò che Richard poteva ancora sospettare a Moncharmaine mentre quest'ultimo si è trovato in fronte al grande mistero quel che fa tremare l'umanità fendo la sua origine l'ignoto Richard al momento che la volla si va da torno ai direttori e il commissario osservava un impressionante silenzio proseguito perché signor commissario Michetese Christine Dye si trova qui perché bisogna trovarla ritrovarla signor direttore dell'Accademia Nazionale di Musica dichiara soltamente signor commissario di polizia con bisogno di ritrovarla forse sparita in piena rappresentazione in piena rappresentazione straordinario non è vero è la cosa più straordinaria di questa sparizione che sono stato io a comunicare in effetti a Moncharmaine che si prende la testa tra le mani in mormora che cos'è questa nuova storia o decisamente c'è una abbastanza per dare le dimissioni esistono alcuni pilli dei baffi senza neanche accorgersene sì che come dice come in un sogno è scomparsa in piena rappresentazione sì è stato rapito durante l'atto della grigione al momento che invocava la vita del cielo ma dubita sia stata rapita dagli angeli io ne sono sicuro tutti si girano un giovanotto pallido e tremante per l'emozione ripete ne sono sicuro siete sicuri di che mi interroga mi fro che c'è stata rapita da un angelo signor commissario e potrete anche il nome signor vi sconti scendi voi sostenete che la signorina Cristina si è stata rapita da un angelo magari da un angelo dell'opera non si guarda con il coraggio tocca a lui parlare tuttavia alzato per cominciare davanti a quella folla che lo scuola con una curiosità indiscreta sì signor da un angelo dell'opera rispose il mio fo e vi dirò dove si rifugia quando saremo soli avete ragione signore e il commissario di polizia facendo comodare lui accanto a sé mette tutti alla porta fuorché noterò i direttori e da parte loro non avrebbero neppure protestato tanto parevano di sopra di con l'unque venimento allora poi si decide signor commissario questo angelo si chiama Eric e si asconde nell'opera e dell'angelo della musica l'angelo della musica davvero che strano l'angelo della musica e rivolgendoci i due direttori il commissario di polizia mi fa una domanda signori che risulta che quest'angelo sia qui da voi e riuscirete con Sharon a scosso dal capo senza neppure sorridere o fece il visconte queste signore hanno cercato di sentire parlare del fantasma dell'opera ebbene posso affermare che le fantasma dell'opera e la cerdà della musica sono la stessa persona il sovrano Eric mi farò si alzate e guardavano con attenzione scusate signore è vostra attenzione a parlare della giustizia io protesto una volta che penso dolorosamente e con un altro che sembra non aver nessuna voglia di capirmi allora che cosa volete darmi per il vostro fantasma dell'opera dico solo che questi signori non hanno segnato a parlare signori a quanto sembra voi conoscete il fantasma dell'opera Richard si alzò aveva in mano gli ultimi peli dei suoi baffi no signor commissario no non lo conosciamo però vorremmo tanto conoscerlo già che non più tardi questa sera c'è rubato ventimila franchi e Richard lancia per sopocciarmi una terribilocchiata che sembrava dire restituiscimi ventimila franchi io spiffero tutto un cervello intese così bene che disse con un giusto smarrito ah dico tutto dico tutto quando mio bra guarda fuori i due direttori ora da una si chiedeva se non fosse per caso finito un manicomio si passò la mano sui capelli un fantasma disse che la stessa sera la pisciana cantante ruba ventimila franchi un fantasma davvero adapparato ora se permettete a parlare il problema una per volta prima la cantante e poi ventimila franchi vediamo un po' signor discendio attenziamo di parlare segnamente voi credete che la signorina Christine Dice sia stata rapita da un individuo che si chiama Eric dunque conoscete questo individuo lo avete visto si è signor commissario dove io non cimitero mi frate la salita e continuano a scluderne quel dicendo è ovvio nella che di solito si incontrano i fantasmi e che cosa facevate in quel cimitero signore disse Raul mi rendo perfettamente conto della pizzeria delle mie risposte e dell'effetto che producono su di voi ma vi supplico di credere che ho le mie buone ragioni ne fate la vita della persona che più mica era molto insieme al mio amato fratello Filippo vorrei potervi convincere in poche parole poiché il tempo è in calza in un minuto e prezioso purtroppo se non vi raccontassi questa stranissima storia fin dall'inizio non mi credereste vi dirò signor commissario tutto ciò che so sul fantasma dell'opera e i miei signori commissari purtroppo non ne so molto parlate parlate esclamarono richard e moncharmel improvvisamente interessati ma sfortunatamente per la speranza che per un istante avevano concepito di apprendere qualche particolare in grado di metterli sulla finanza del loro truppatore il prezzo dovrebbero rendersi la triste evidenza che era urtice aveva completamente preso la testa tutta quella storia di perroquirec di rischi di violini incantati non poteva che essere scaturita dalla mente sconvolta di un innamorato era palese del resto che il commissario mio blocco dividesse ogni attimo e di più su quel ogni attimo di più questo punto di vista incertamente il funzionario avrebbe messo fine con le frasi sconnesse di che aveva dato un sacco nella prima parte di questo racconto se le circostanze stesse non si fossero incaricate di interromperle la porta sarebbe aperta e un individuo curiosamente vestito di una pasta finanziaria nera e con il centro del tempo stesso lisso e luccicante affondata nella testa di loro l'orecchia invece il suo ingresso corse dal commissario gli disse qualcosa sotto voce probabilmente qualche accente della sua retta che veniva a riferire di una visione recente durante quel colloquio mi franno l'abbondano per un attimo con lo scuolo della urla infine rivolgendosi a lui disse signore del fantasma abbiamo parlato abbastanza ora parleremo un po' di voi sembra che non abbia nulla in contrario è vero che questa sera dove fate la pilla signora c'erano altre tre carrozze non ci ha fatto minimamente caso erano quelle della signorina e sorelle che aveva trovato posto nel cordiale dell'amministrazione della Carlotta e di vostro fratello il signor conto di Chagny è possibile? quel che è certo in compenso è chiesto il vostro equipaggio quello della sorella e quello della Carlotta sono sempre al loro posto il commercio di Chagny non vi si trova più questo signor commissario non ha niente a che vedere perdonate il signor conto non era contrario del vostro matrimonio con la signorina Christine Day è una questione che riguarda soltanto la nostra famiglia mi avete risposto era contrario perché sono andate a rapire Christine Day mettendovi a riparte le reazioni di vostro fratello ebbene signore di Chagny permettetemi di informarmi che il vostro fratello è stato pilla è stato di voi è stato lui a rapire Christine Day oh ci metterò portandosi la mano sul cuore non è possibile siete certo quel che dite subito dopo la scomparsa dell'artista organizzata con delle complicità che saranno solo un compito a porare si è precipitato nella sua carrozza che ha compito una corsa fuori in bando attraverso Parigi attraverso Parigi androva per un rock povero Raul che cosa significa attraverso Parigi e vuole Parigi vuole Parigi in quelle direzioni in direzione di Bruxelles un rock grida sull'acqua del povero giovane oh esclava un gioco che li riprenderò in due palzi fa fuori dall'ufficio e riportare ce l'ha grida spiritosamente il commissario ecco le informazioni che fa ripeti quella della nocella della musica a questo punto mi rossicera verso il giuditario super fatto e gli impartisce un piccolo corso e gli impartisce un piccolo corso di polizione onesta ma niente ha fatto shock non so fatto se è stato l'acqua di gianiera per regressire ma ho bisogno di saperle credo che in questo momento nessun piccolo biscotto e sobratello desideri far quello sapere adesso corre Bula è il mio principale corporatore è tutta qui signori questa arte della polizia è ritenuta tanto complicata ma che diventa così semplice non appena si è compreso che tutto sale a fare il poliziotto a chi non lo è a fare il poliziotto a chi non lo è ma forse il signor commissario di polizia mi ruolo non sarebbe stato così contento di si stesso se avessi saputo che la corsa del suo rapido è messo a cielo sarebbe stata bloccata già nel primo corrido scomperato nel frattempo dalla folla di curiosi che si era proprio dovuta disperdere il corretto che sembrava deserto già nonostante Raul si era visto sbarrare il cammino da una grande ombra domandata così in fretta signore di Chagni ha chiesto l'ombra Raul spazientito va alzato la testa riconoscendo il prezzo di astracanti di poco prima si fermò ancora voi scolmò con ovoce febbrile voi che conoscevi segretieri che non volete che ne parli ma chi siete lo sapete benissimo solo il persino disse l'ombra allora io direi di fermarci qui in quanto il capitolo è terminato siamo arrivati a pagina 179 del capitolo 19 del commissario di polizia il visconte e il persiano la prossima volta insieme continueremo con il capitolo 20 il visconte e il persiano se questo video vi è piaciuto io vi invito come sempre ad iscriverti al canale se vi piace appunto questa tipologia quindi da un tipo la mia bellezza un po' di tracing un po' appunto di lettura e whispering in generale ci facciamo compagnia con i libri con le riviste ogni tanto anche con un manga che avevo letto qualche volta fa se loro vi e poi se vi va di lasciare un commento mi sarebbe molto molto piacere in cui magari mi dite magari che tipologia di video vorreste vedere o qualche lettura particolare ed un like se il video vi è piaciuto se inoltre vi va di supportare il canale ci sono ulteriori modalità in descrizione ovvero con il link su cui potete cliccare per le donazioni paypal e il link per la mia amazon wishlist per l'amazon wishlist del canale in cui ho inserito qualche microfono e qualche altra cosina e io comunque vi ringrazio in qualsiasi caso già per il supporto che mi dimostrate cliccando sul video e nulla noi come tutti i giorni ci sentiamo domani con un nuovo video ciao